Mi sono lasciato tentare da una cosa che credo abbia conquistato tutti nella nostra infanzia. Mi sono lasciato tentare da Pinocchio. Noi siamo felicissimi perché dopo il grande successo proprio sul palco di Ione, di Cuore di Neve, dell'Isola che non c'è e di Love Letters, torniamo con Pinocchio accompagnati da un grandissimo attore che è Pino Amendola e un contributo speciale in video di Giorgio Albertazzi nel ruolo di Mangio Fuoco. Quindi invitiamo tutti voi a venire a scoprire questo sogno, questa favola meravigliosa al Teatro Guione di Roma dal 18 febbraio al 2 maggio. Evite a vedere quanto sono straordinari questi ragazzi, quanta verità nell'esagerazione, nella finzione, se si vuole, della favola riescono a mettere. E emozionatevi con noi perché noi ci emozioniamo a farlo questo spettacolo. E' un Pinocchio che parte proprio dalla fantasia del bambino, cioè un adulto che racconta una favola e come se lo immaginerebbe un bambino. Proprio con quelle caratteristiche, quei personaggi, quella fantasia, quei colori e che prende vita. Vedi Papà! Vedi Papà! Vedi Papà! Pappà! Spapa zelto in gredi! Pappi zelto in gredi! Grazie a tutti.